Al netto di Berlusconi, io credo che la stagione, gli auguro cent'anni ancora sul piano personale, credo che la stagione politica di Berlusconi sia già finita, ma sta nelle cose, voglio dire un partito che ha perso tantissimo consenso, ora c'è un altro partito egemone nella coalizione di centrodestra con una leader che ha 30 anni di meno, forse 40 di meno, e quindi spero che in realtà a prescindere da Berlusconi lo scontro tra politica e giustizia possa finire, non è facile, perché per finire lo scontro tra politica e giustizia servirebbe per prima cosa una politica credibile, io credo che la magistratura debba ritornare in qualche modo in un alveo da cui ha esondato per effetto della ritirata della politica, cioè quando c'è stata Tangentopoli, prima ancora di Tangentopoli si saldò, secondo me, anche in senso virtuoso, un asse tra la magistratura e la parte della politica sull'antiterrorismo, dov'è che quando c'è stata Tangentopoli la politica si è ritratta completamente, ma perché si costruisce uno spazio nel quale entra la magistratura, è sostanzialmente scomparsa e la magistratura, siccome non esiste lo spazio vuoto, non è dato, ha occupato questo spazio. Questa cosa ha fatto molto male anche alla magistratura, perché ha cambiato la natura di una parte della magistratura, delle stesse procure, ha cambiato il ruolo delle procure, ne parlavo prima, è evidente che la figura del PM è diventata, ma non lo magistrato, con tutte le garantie del magistrato. Questo ha ovviamente alterato il nostro sistema giudiziario, ma perché il sistema giudiziario ritorni alla normalità? È necessario una credibilità della politica. È necessario una credibilità della politica. Di cui non c'è traccia, perché la cosa di cui abbiamo parlato prima, per esempio, è una prova. Grazie. Grazie.